Al Palaroia, Cologna e Ventimiglia mettono in scena il più atipico dei testa coda nella sedicesima giornata del campionato di Serie A2. La compagine bresciana infatti giunge in riviera priva del giusto atteggiamento mentale e subisce l'aggressività frontaliera, sprecando possessi e conclusioni facili fino a chiudere in svantaggio la prima frazione per 14-12. Il giovanissimo Ventimiglia ribatte colpo su colpo, spezza il ritmo della capolista anche grazie alla condensa che rende scivoloso il parquet e necessario uno stop di 20 minuti. E trascinato dal solito Dattis non demorde nemmeno nel momento di massima difficoltà al nono della ripresa quando i Lombardi volano sul più 3. Si prosegue punto a punto, i ragazzi di Malatino potrebbero operare il break sia sul 26-25 sia sul 27-28 ma il portiere ospite Sirani sale in cattedra neutralizzando due rigori. Le maggiori recriminazioni ventimigliesi però non sono relative alla superiorità tecnica degli avversari nei momenti cruciali. A 5 minuti dalla fine infatti gli arbitri Castro e Piazza non convalidano un gol che ai più era parso regolare. Palla dentro o fuori? È uno dei classici interrogativi dello sport. Coach Malatino invoca il fair play in diretta del Cologne ma l'ammissione giunge solo a tempo scaduto e nelle interviste post gara. L'allenatore della capolista Scalia, denti stretti, parla di partita complicata e di un 20 miglia meritevole della vittoria per la gran mole di lavoro svolto. Sul fronte ventimigliese invece si definisce vergognoso il trattamento subito dai direttori di gara che rischiano di vanificare con la loro superficialità gli immensi sacrifici per mantenere in Serie A la società giallorossa. Le uniche note liete giungono dai campionati giovanili dove gli under 14 espugnano il palazzetto del Principato di Monaco col punteggio di 21 a 20 mentre gli under 20 hanno liquidato il casale per 33 a 25 avvicinandosi sia al titolo regionale sia a quello interregionale.